ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in molti mi avete chiesto come si può smontare il tunnel centrale tutta la parte in mezzo qui che vediamo per accedere a varie centraline per rubrificare il cambio dove stanno le leve sotto per varie cose magari per accedere sotto al porto oggetti qui e quindi oggi ho deciso di togliere questo pezzo in modo che lo possiamo vedere insieme che c'è sotto e come si toglie ma andiamo subito a fare il lavoro cominciamo con staccare queste sono a incastro perlomeno le punte queste fianchette laterali le possiamo prendere da qui e tiriamo verso di noi ecco magari ci diamo un colpo secco ok ora andiamo ad alzare solo la parte anteriore di questo cassetto ecco alziamo soltanto e ci fermiamo ora stacchiamo gli incastri che stanno nei quattro angoli della cornice partiamo dal davanti solitamente è più semplice stacchiamo anche qui raga ok e ora possiamo togliere questo ecco così non ci dà più fastidio e cominciamo già a vedere qualcosa e ora questa qua la possiamo anch'essa scollegare facilmente attenzione che è incastrata eccola qua una volta alzata la cuffia della leo del cambio abbiamo tutta la visuale per poter accedere e vedere un po quello che ci interessa ad esempio se vediamo questa centralina la gara vedete questa trv questa serve per il freno a mano elettrico che purtroppo a volte ha dato qualche fastidio nel senso che comincia a labbeggiare il pulsante è molto spesso è stato bisogno di sostituire la centralina mentre al lato vediamo quest'altra centralina che quella che gestisce gli airbag questa è per gli airbag ad esempio andando avanti qui vediamo le leve del cambio come vi dicevo prima e se eventualmente ad esempio dobbiamo sostituire il pulsante o fare dei lavoretti quello che sia qui qui abbiamo le altre cosettine ad esempio le prese per i led ambiente eccetera eccetera ok ragazzi mentre questo ragà questo tubo grigio che voi non troverete sicuramente già ve l'ho detto qualche altra volta l'altra volta l'ho messo io e serve a creare un cassetto refrigerato ecco vedete poi uscirà l'aria all'interno di questo cassetto del normale cassetto che abbiamo tutti per farlo diventare rifrigerato d'estate eventualmente caldo in inverno ora direi di rimontare il tutto poiché alcune cose diciamo che alcuni incastri vanno messi prima degli altri vediamolo insieme ok cominciamo con il posizionare questa però non incastriamo la completamente eccola qua e andiamo a mettere anche questo questo dobbiamo metterlo a incastro così ecco e ora possiamo chiudere eccola ok chiuso questo questo raga alla fine mi raccomando è questo pezzo qui alla fine ora le fianchette assicuriamoci che la parte della cornice sia andata bene e andiamo a incastrare le fianchette non questo è ok e ora incastriamo quest'altro pezzo fatto ok ragazzi qui abbiamo concluso ok ragazzi e anche per questo video è tutto grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti